ciao ragazzi benvenuti nel news week sarò brevissimo un minuto adesso vi farò vedere una cosa per me sconvolgente ma google earth in un'isola disabitata dell'indonesia a queste coordinate e l'immagine guardate che si vede che cos'è sta roba adesso voglio sentire il zica che cos'è sta roba voglio sentire voglio sapere che cos'è sta roba l'articolo dice che secondo l'esperto di ufo scatuori in questa la porta d'ingresso per una base sotterranea aliena effettivamente la forma ce l'ha è una sorta di strano poliedono una sorta di rettangolo che cos'è sta roba la notizia è vera sul messaggio 0.it e la foto è vera e cosa sono quelle robe che si vedono lì sembrano delle distorsioni iscrivetevi e rimanete aggiornati con news week che vi dice sempre quello che penso ciao ragazzi buonanotte siamo sempre più vicini a un contatto massivo